... ... ... ... avevano un olio in particolare, di averlo fatto qualche seta, e... che avevo venuto da lì, di tutto, e non avevo visto quello che era, era, e anche se lo fanno accidati. E quindi per i bambini anche ci vediamo. Non può essere un'esercitazione, ma dovete già viaggare la loro scopre, e poter rotevire a scogliare i miei figli e i miei. Si. Ma soprattutto i bambini, si. Si, si, si no, perché noi avevano un altro, una gorgiora, che vendeva il pomodoro in bottiglia, ma non è la gorgiora, ma non è la gorgiora, e poi, molti bottiglie d'oltre non ce l'avevano ancora ripostate. E poi non poterla rindu solo anche perché avrà bisogno di poter votare sulle bambini, sulle bambini, sulle bambini, sulle bambini, e poterla poterli fare il portale. E allora quella che viene a portare il bambini, che viene venuta la cinta, gli angolari, che ci si pede vedere, ero lì, che proprio, ci si pede vedere di persona, e gli dice, tu, le bambini, quando me lo riposti, e tre di due erano aggiornati, in una singola, se la traccia. Ma di persona? Di persona proprio. Di persona. Sì. Durante la notte. a quel, almeno il formicchio, era il formicchio. Ma questa è la donna che vedeva i pomodori? Sì. Che era? Sì. Sì. Si vedeva, non si vedeva, come fa per dire che era una strega? Dura notte. Sì. Dura notte. Sì. 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 Ma già si sapeva, che lei era... Dura notte. Si dice, come si dice, se è vero, non lo so, che era una forza di formica, poi, quando entrano dentro, se la persona, che deve l'ostalgare, dorme, riescono a cercare, di avere un gruppo di donne, o novia, a fare il tuo mondo, a fare il tuo mondo, a fare il tuo mondo piuttosto, a fare cosa di soli, e lei giù c'è il sangue. Sì. Hai capito? Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.